buongiorno a tutti dal vostro Edoardo e allora oggi è il secondo appuntamento e dunque vediamo di riuscire se è possibile ad avere qualche follower insomma qualche uno che segue allora mi sembra di aver messo a posto tutto ok e dunque adesso è tutto predisposto per questo nostro secondo appuntamento dunque che cosa dire beh dobbiamo continuare quello che avevamo lasciato indietro la volta scorsa e che cosa avevamo lasciato indietro beh come potere in modo pratico riuscire a vedere dentro di noi e scoprire quali sono quei disagi che ci fanno soffrire lo so voi giovani ne avete molti ma non per colpa vostra l'abbiamo già detto ma più per colpa nostra cioè di noi genitori per la nostra frequente incapacità di riuscire a educarvi e a stimolarvi soprattutto nel modo più giusto in modo che voi possiate esprimere tutta la vostra creatività come ho detto già la volta scorsa i vostri disagi dipendono tutti dal fatto che non esprimete appieno i vostri talenti molto spesso non li conoscete questo è un grande problema sì è un grande problema per voi perché non sapere quali sono le nostre capacità fa sì che non possiamo essere creativi e se non siamo creativi a cascata cioè di conseguenza stiamo male stiamo male allora come riuscire a scoprire i nostri talenti beh dobbiamo incominciare a vedere quali sono i nostri difetti sì perché i nostri difetti in qualche modo sono la cartina di tornasole questo è un vecchio modo di dire che sono una modalità attraverso la quale in qualche modo sono uno specchio negativo di quelli che sono i nostri talenti cioè i nostri aspetti positivi le nostre capacità è proprio così perché i nostri difetti come i nostri disagi non sono altro che il degrado quindi l'abbassamento in frequenza insomma i nostri difetti e i nostri disagi e anche i nostri complessi vibrano ad una frequenza più bassa rispetto agli archetipi che sono il loro papà in che senso sono i principi che una volta degradati cioè abbassati in frequenza diventano i nostri difetti i nostri complessi in una parola i nostri disagi esistenziali cioè i disagi che abbiamo del vivere e poi possono creare anche delle vere e proprie malattie nel corpo fisico e certo perché tutto nasce da dentro e quindi pian piano pian piano esce fuori cioè nel nostro corpo fisico quindi questo è un concetto facile anche da comprendere e allora ho trovato un modo abbastanza semplice direi per fare una sorta di check up del nostro stato esistenziale cioè il vostro stato esistenziale insomma nostro perché mi ci metto anch'io nei giovani anche se di età non lo sono più ma di spirito lo sono tanto sono proprio un bambino e quindi posso parlare con voi allo stesso livello perché non c'è un livello più alto più basso c'è il livello della comunicazione e quando si parla uno stesso linguaggio si comunica e ci si comprende soprattutto quindi noi di anima ribelle dico noi perché fra un po ci saranno anche altri come li chiamiamo trainer facilitatori insomma amici vostri amici perché questo vogliamo essere che vi aiuteranno vi aiuteranno se volete essere aiutati perché sapete c'è una regoletta che valida sempre che se uno sta bene come è nonostante stia male non c'è niente da fare e non può essere aiutato per essere aiutati dobbiamo in qualche modo riconoscere che c'è qualche cosa di noi che ci fa star male e allora possiamo andare a cercare anche qualche d'uno che ci aiuti ma se stiamo bene anche quando stiamo peggio però per noi è star bene magari gli altri ci vedono e dicono mamma mia come sta inguaiata questa persona però se a noi ci piace così e quindi soprattutto ci fa star bene il modo in cui siamo non c'è niente da fare nessuno ci può aiutare perché non abbiamo bisogno di aiuto comprendete magari gli altri possono pensare mamma mia questa persona ha tanto bisogno di aiuto ma se noi non siamo consapevoli della nostra sofferenza e soprattutto se non soffriamo ma se stiamo bene anche se agiamo in un modo che per la maggior parte della umanità della società è ritenuto un modo non proprio per benino non importa perché quello che importa è che noi riusciamo a star bene in qualsiasi modo agiamo pensiamo o abbiamo emozioni e sentimenti ma nel momento in cui sentiamo dentro che c'è qualche cosina che non ci fa stare proprio bene e non parlo di desideri inappagati che quelli ne abbiamo sempre no chi è che non ha desideri ma di qualche cosa che è un po più nel nostro profondo cioè nella nostra interiorità ebbene allora questi desideri inappagati repressi tutto ciò che reprimiamo in noi pian piano scava dentro e dall'interiorità si porta anche sul nostro fisico e sì perché le malattie che abbiamo derivano tutte dal nostro star male dentro e pian piano quello star male dentro diventa uno star male fuori cioè nel corpo fisico e negli organi negli apparati che compongono il corpo fisico quindi quello che è importante primo riuscire a guardarci dentro e a vedere se stiamo proprio bene in tutte le nostre manifestazioni secondo scoprire laddove c'è qualche cosa che anche noi riusciamo a vedere che non ci piace e solo quando scopriamo che qualche cosa non ci piace o non ci piace più magari prima ci piaceva ma adesso no che allora possiamo cambiarlo e se non ci riusciamo possiamo chiedere aiuto a chi magari ha un po più esperienza di noi e sa come agire dentro la nostra interiorità per farci star meglio e magari per cambiare quel comportamento che a noi non piace più però che continua ad essere dentro di noi anche come reazioni e agli altri perché sono automatici sono comportamenti automatici cioè per i quali noi non dobbiamo pensare adesso mi comporto in questo modo no il nostro corpo emotivo cioè il nostro sentire agisce in modo spontaneo se qualcuno ci offende agiamo in modo spontaneo è il nostro corpo emotivo che trasmetta il cervello a quello mi ha offeso allora devo reagire ebbene anche questo è una modalità del nostro star male del nostro soffrire non ce ne accorgiamo e magari ci va anche bene ma se ci va bene allora rimarrà così se incomincia a non andarci più bene come noi reagiamo a determinate situazioni allora possiamo dire possiamo fare un elenco e vedere io sono fatto così 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 perché dobbiamo iniziare con gli elenchi gli elenchi ci aiutano sempre ci hanno sempre aiutato a vedere cosa ci manca cosa possiamo cambiare e quindi se non facciamo un elenco di come noi ci vediamo poi possiamo fare anche un elenco di come gli altri ci vedono che è sempre utile ma iniziamo a farlo di come noi ci vediamo e allora io ho siccome insomma faccio questo di mestiere adesso prima ho fatto il regista tv televisivo vi ho raccontato la volta scorsa ho imparato a riuscire a comunicare con gli attori a farmi capire a comprendere loro e ottenere anche quello che era nella mia testa no di regista che volevo ottenere quindi ho imparato ad ascoltare gli altri e pian piano anche a costruire delle procedure cioè delle modalità dei modi per entrare in comunicazione entrare in comunicazione con gli altri o vi ricordo che c'è una chat su cui voi potete anche digitare e farmi delle domande o dirmi semplicemente ciao sono qui come sto come stai ebbene no incominciamo a comunicare anche in questo modo piano piano arriverete io ho una grande pazienza e una grande fiducia anche in questo mezzo perché mi è congeniale vi ho detto sono stato registro televisivo quindi per me comunicare comunicare davanti a un video in questo momento davanti alla mia webcam 4k quindi sono anche contento che l'ho acquistata ebbene per me è congeniale cioè sono abituato veramente ero abituato a stare dietro in regia però anche stare davanti non mi dispiace perché 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 in questo modo io posso comunicare con voi avere un dialogo avere un contatto e avere relazioni e avere le relazioni di qualsiasi tipo è è ciò per cui siamo fatti un essere umano è soprattutto un una entità chiamiamola così che ha bisogno di relazionarsi da soli non si sta bene e spesso quando siamo da soli parliamo anche con noi stessi il che non è proprio il massimo è della come dire salute psicofisica però magari se non c'è nessun altro con cui possiamo comunicare va bene anche quello ogni tanto anche a me capita però mi piace tanto poter comunicare e anche se siamo online possiamo magari non vederci magari nel prossimo futuro potrà anche essere questo avere anche più persone che si presentano con la loro webcam ma per ora però abbiamo la chat e quindi potete comunicare attraverso la chat potete scrivere qualsiasi cosa che volete diciamo che se scrivete qualche cosa che possono essere utili a me e a voi ancora meglio allora ritorniamo al discorso di prima e cioè a fare un elenco affinché che possiate comprendere ciò che vi piace e ciò che non vi piace più magari ieri vi piaceva ma oggi o da ora in avanti avete deciso che non è un comportamento che magari vi fa star bene o vi fa star bene con gli altri e quindi decidete che si può modificare in meglio quel comportamento tutti quanti agiamo in questo modo è a un certo punto ci accorgiamo o gli altri che sono un ottimo specchio ci fanno vedere qualche cosa che non è proprio bello di noi anche nel nostro modo in cui interagiamo quindi agiamo con gli altri sapete gli altri anche i nostri amici sono molto bravi a vedere quello che succede a noi sapete c'è anche un detto che dice uno guarda la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non vede la trave che invece ha nel proprio occhio no più o meno era così il che vuol dire che siamo molto bravi a vedere tutti i difetti degli altri ma non i nostri però dobbiamo incominciare a guardarci dentro perché solo guardandoci dentro possiamo sapere chi siamo e quindi migliorare tutto ciò che con quello sguardo dentro di noi non ci piace più e allora vi dicevo prima ho preparato una sorta di questionario dove ho elencato quelli che sono i difetti principali credo di averne messi una decina per ogni categoria ogni categoria che cosa significa magari se ve lo faccio vedere subito lo sapete cos'è che stavo pensando se farvi vedere subito un video che ho preparato oppure farvi vedere prima il questionario se adesso ci fosse qualche uno in chat mi potrebbe scrivere a facci vedere questo piuttosto che quell'altro però prima o poi qualche uno si affaccerà in questa chat e parteciperà vediamo un po vediamo un po va bene vi faccio vedere subito il questionario allora adesso lo porto dovrebbe essere qua eccolo qua qua mi vedete sempre e qui vedete questo questionario l'ho preparato prima ovviamente sono stato un bel po perché io uso streamlapse per fare questa regia che molti di voi conosceranno è sempre una come dire derivato di obs mi sembra che si chiami così io preferisco streamlapse perché ha delle funzioni già messe a posto ecco che non bisogna tanto configurare come si dice in gergo allora vediamo qua vediamo se riesco sì lo vedete la mia manina spero proprio di sì allora questo è quella sorta di questionario che ho messo a punto e allora vedete che ci sono sette colori il rosso il blu il verde il giallo l'arancione l'azzurro turchese il violetto e poi lo leggiamo insieme così cerchiamo di comprendere no come funziona questo questionario che voi poi potete non so se potete farvi una foto col telefonino certo che potete farlo e poi magari me lo potete richiedere anche qui o in chat o nella chat che rimane comunque su twitch no su animali belle valori e io ve lo mando basta che mi mettiate la vostra email e ve lo posso inviare o anche che adesso ho il vostro account di whatsapp o di instagram insomma di uno dei social che usate io cerco di usarli tutti quanti forse tranne beh tik tok non ce l'ho installato sul telefonino ma ce l'ho sul computer quindi posso comunicare anche attraverso tik tok instagram facebook e quali altri sono no e poi twitch vabbè su twitch faccio le dirette perché mi piace tanto devo dire da quando ho scoperto twitch mi piace proprio mi piace proprio perché perché mi ricorda di quando facevo le regie e quindi anche il fatto stesso di poter configurare le scene qualcuno di voi che anche stream ma credo che si dica così no che si diverte anche a streamare su twitch o anche su altri canali su altre piattaforme si dice di streaming online vedete com'è parlo so parlare anche bene ma insomma diciamo in gergo no si stream ma e dunque se qualche uno di voi sa ecco sa anche utilizzare questi programmi no ecco questi software che servono appunto per poter stream mare allora io ho scelto streamlabs mi trovo molto bene e allora adesso vediamo un po questo questionario e se riuscite a mettere a mettere a fuoco allora quello di colore rosso questo qui che si chiama primo volontà direzione e poi c'è anche comando o subisco per fare comprendere meglio che ci sono delle come dire delle parole poi no come vedete qua che vanno a individuare alcuni probabili nostri degradi io chiamo degradi tutto quello che possono essere i difetti insomma tutto ciò che fa abbassare la vibrazione rispetto agli archetipi ad esempio questo questi degradi che vedete qua perfezionista intransigente superbo orgoglioso sospettoso scusate parlo in fretta e poi mi vengono dei rigurgiti è la vecchiaia orgoglioso sospettoso impotente vittima spaventato disorientato smarrito sono dieci disagi o dieci degradi dieci difetti o comportamenti alcuni dei quali potreste riconoscere che avete e non vi piacciono più sappiate che tutti questi degradi abituiamoci a chiamarli così degradi perché sono dei degradi in frequenza rispetto all'archetipo che l'archetipo di volontà che è rosso un rosso fiamma perché è il rosso della volontà cioè il rosso il rosso è un colore forte colore del sangue il colore vitale quindi la volontà è vitale è la prima nota della vita e dunque è rossa ma questa volontà ha la funzione di dirigerci cioè di farci trovare la direzione la migliore direzione in quel momento della nostra vita e quindi quando abbiamo una direzione avremo anche un progetto un proposito un'intenzione precisa che potremo mettere a frutto quindi avere una direzione comprendete che è importantissimo ed è il primo valore il primo archetipo la prima qualità attraverso cui la vita si esprime la volontà di essere è sì perché se non ci fosse quella volontà l'anima non si incarnerebbe o comunque per chi non crede nell'incarnazione la vita sarebbe piatta diciamolo così io ci credo nell'incarnazione e credo anche quindi nella reincarnazione e quindi che non viviamo una sola vita ma ne viviamo tante una alla volta ovviamente anche se a volte ci sembra di viverne più di una contemporaneamente magari chi è molto preso dalle attività ma anche a volte quando siamo nell'oscillazione delle emozioni ci sembra di essere il dottor Jekyll o mister Hyde sapete no cioè quello sdoppiamento di personalità a volte anche triplice quadruplice quante personalità ci possono essere dentro di noi che molto spesso si manifestano beh attraverso i disagi eh sì che io chiamo la nota di dolore noi ne abbiamo una in particolare che è proprio la nota di dolore di quando l'anima costruisce il corpo sì anche qui è l'anima che costruisce il corpo si serve della mamma ovviamente no e dentro nel nella placenta della mamma c'è il corpo fisico che si sta costruendo ma l'anima costruisce per quel corpicino anche quei corpi che noi chiamiamo sottili il corpo della mente il corpo delle emozioni dei sentimenti e il corpo eterico che magari non conoscete ma è il corpo vitale quello che ci dà la carica nella vita e quando quel corpo vitale non riesce a rivitalizzarsi cioè attraverso il cibo attraverso però anche l'aria pulita attraverso le cose belle della vita noi ci ricarichiamo chi si ricarica il corpo eterico che è il corpo vitale ed è quello che poi trasmette la vitalità al corpo fisico quindi quando ci ammalliamo è sempre il corpo eterico che si ammala cioè il nostro corpo vitale questa è un'informazione importante per voi perché incominciate a vedere che non siete solo il corpo fisico ma dentro di voi agiscono anche degli altri corpi che hanno gli sono stati dati anche tanti nomi così no a secondo degli insegnamenti ma non è importante sono dei corpi sottili sottili perché non li vediamo certo quando abbiamo un sentimento un'emozione sappiamo che è in azione il nostro corpo emotivo e quando pensiamo sappiamo che è in azione il nostro corpo mentale in realtà è lui che formula i nostri pensieri ma questo potrebbe essere così un po difficile da comprendere subito è più facile comprendere che tutta la nostra vitalità la nostra voglia di vivere è nel corpo eterico o il corpo vitale possiamo chiamarlo corpo vitale perché proprio quella la sua funzione dunque ritorniamo a questo questionario io ogni tanto vi do anche delle informazioni che magari adesso vi dico ma a me che interessa saperlo però non si sa mai perché conoscere qualche cosina in più ci fa sempre bene siamo qui per questo per imparare delle cose perché altrimenti ci gireremo i pollici tutto il giorno è ma non è un gran vivere cosa ne dite o allora specialmente noi di anima ribelle noi ribelli nell'anima perché noi siamo ribelli dentro perché vogliamo conoscere sapere ci vogliamo ribellare a quel condizionamento appiattimento culturale ma anche materiale tutto quanto che ci vogliono imporre che il sistema vi ho già detto l'altra volta non ci ritorno sopra ma dobbiamo essere ribelli soprattutto nel cuore qui questa volta non ho la maglietta con l'iguana ma è come se l'avessi perché la mia iguana è sempre dentro di me ed è quella che mi fa ribellare a tutti gli stereotipi però sono molto ligio alle leggi della vita attenzione dobbiamo fare differenza tra le leggi degli uomini che comunque vanno rispettate anche se a volte ci procurano questa ribellione interiore perché perché vorremmo vedere un mondo migliore vorremmo vivere in una società più bella in cui ci fosse ci sia ci più cooperazione più solidarietà perché è questa la cooperazione la solidarietà che rendono le nostre relazioni migliori più belle chi non ha amici sa che non è un gran bel vivere ma chi amici e noi giovani vogliamo avere tanti amici perché sappiamo che possiamo interagire cioè comunicare tra di noi e poi gli amici ci comprendono e noi li comprendiamo e quindi sono i nostri supporter i nostri follower migliori i nostri amici dunque dobbiamo man mano per avere tanti amici e non quelli che abbiamo su facebook o su instagram che sono amici per modo di dire io parlo dei veri amici quelli che ci possono aiutare nel momento del bisogno e guardate che sono molto pochi i veri amici eppure avere anche se pochi dei veri amici ci può salvare la vita eh sì eh sì possono venire nei momenti in cui abbiamo proprio bisogno e solo un vero amico ci può aiutare riflettiamoci bene su questo perché i veri amici sono una parte di noi ci conoscono profondamente e soprattutto ci accettano per come siamo e se proprio c'è qualche cosa che non va ce lo dicono in faccia eh è per quello che servono anche gli amici dunque io voglio essere un vostro amico e quindi cercate di approfittare sì anche di questa mia conoscenza che ho accumulato in tanti anni di esperienza prima con gli attori ma poi con la gente con le persone certo anche con i giovani anche con i giovani perché io sono giovane sono giovane dentro e so che i giovani sono preziosi che i giovani sono il nostro futuro e dunque è a voi che bisogna parlare perché poi questo mondo questa società vada meglio sia una società più bella più sopportabile che soprattutto dia la possibilità a ognuno di noi di esprimersi al suo meglio e quindi di essere creativo al massimo ritorniamo sul questionario allora volontà dicevamo il rosso della volontà che ci dà la direzione e allora vediamo un po' quando questo rosso della volontà nel il corpo vitale incomincia a scendere di vibrazione cioè a vibrare meno e quindi incomincia a scarseggiare perché nei corpi sottili non è tanto la quantità ma la qualità della vibrazione che li rende sani e quindi se vibriamo se i nostri corpi sottili vibrano alto stiamo bene se vibrano basso stiamo male dunque andiamo a vedere il perfezionista ad esempio se qualche uno di voi si sente in qualche modo bello tendere alla perfezione è una cosa santa e sacra bisogna sempre tendere alla perfezione ma il perfezionista è uno che esagera si diventa perfezionisti e cioè si degrada in quella tendenza tensione alla perfezione perché gli archetipi sono le forme perfette quindi l'archetipo perfetto di volontà è la volontà di elevarsi c'è quella freccia rossa che va verso l'alto l'abbiamo vista no a mi sono dimenticato qui di prendere le carte dei valori ve lo potevo far vedere ma ve l'ho fatta vedere l'altra volta la prossima volta le avrò sempre con me e quindi adesso non mi posso alzare dalla regia non è bello e quindi ve lo farò vedere la prossima volta ma comunque la volontà è una freccia rossa rivolta verso l'alto e dunque quella è la volontà archetipica cioè il principio di volontà la direzione verso l'alto provate a pensare gli alberi crescono verso l'alto quindi tutto il regno vegetale anche i fiori riuscite a avere questa intuizione il regno vegetale applica la volontà in modo perfetto che sia un fiore che sia un albero o un cespuglio tutti vogliono crescere ed espandersi verso l'alto verso il cielo perché il regno vegetale evidentemente sa che espandendosi verso l'alto c'è l'aria più pulita si sta meglio in qualche modo si sta meglio ecco e anche noi da animali ci siamo evoluti e camminiamo su due gambe perché così abbiamo le braccia libere per fare le cose e poi lo sguardo che può alzarsi al cielo da uomini eretti riusciamo a guardare meglio il cielo che non invece da animali che camminano a quattro zampe poi c'è un'altra grande riferenza che adesso vi dico vediamo se riesco a dirvela in modo che la comprendiate l'altra volta nella trasmissione precedente vi ho detto che noi siamo anche come la conoscenza ve l'ho fatta vedere la stella cinque punte che la vediamo qua è arancione poi andremo a vedere anche qui no questa stella che riguarda appunto la conoscenza quindi il quinto archetipo di conoscenza ma che noi siamo a braccia aperte a gambe aperte con la testa abbiamo cinque vertici siamo come una stella a cinque punte quindi l'essere umano è proprio la figura della conoscenza la stella cinque punte c'è anche un'immagine di leonardo da vinci che si chiama l'uomo di vitruvio che è messo proprio così come le braccia aperte le gambe aperte disegna questa stella a cinque punte questa stella allora questa è la stella della conoscenza ma se noi prendiamo un animale no un gatto un cane e lo mettiamo così lo spiattelliamo no e lo mettiamo a braccia e gambe aperte oltre alla testa c'è un altro vertice disegna un'altra stella disegna una stella a sei punte non a cinque punte perché a sei punte perché tutti gli animali hanno la coda ma noi non abbiamo più la coda diventando esseri umani abbiamo perso la coda e quindi invece che disegnare a braccia aperte gambe aperte con la testa e la coda una stella a sei punte un esagono pensate che la stella a sei punte ad esempio è la stella di israele no è vero che è composta da due triangoli e cioè il maschile e il femminile questo ve lo dico per chi non lo sa i due triangoli uno sopra uno sotto che si incrociano a metà formano proprio la stella a sei punte che è l'unione del maschile e del femminile ed è anche un simbolo di parità di uguaglianza appunto del maschile del femminile che si incontrano a metà questi due triangoli il femminile è così il maschile è così incontrando si creano questa stella a sei punte proprio no incontandosi perfettamente nel mezzo quindi incrociandosi ma cosa vuol dire questo che gli animali che hanno testa due braccia due gambe e la coda quindi sei vertici assomigliano al simbolo della stella a sei punte che è una stella cosiddetta anche il sigillo di salomone ma della parità appunto il maschile e il femminile che si incontrano e sono pari quindi gli animali disegnano il simbolo della parità ma l'essere umano no perché noi non abbiamo più la coda e quindi disegniamo una stella a cinque punte che non è più il simbolo della parità ma è il simbolo udite udite della costruzione dovete sapere che l'universo intero è costruito con una stella a cinque punte detto così non vi dice proprio niente ma ve lo spiegherò un'altra volta perché non è complesso ma bisogna starci un po per comprendere diciamo che la stella a cinque punte ha in sé la proporzione più bella che c'è si chiama proporzione aurea ed è quella ad esempio delle proporzioni del nostro viso rispetto al nostro tronco o della mano rispetto all'avambraccio e al braccio i nostri corpi ma anche ad esempio andatevi vedere ecco qua il video sulla proporzione aurea ce ne sono su youtube di bellissimi vi fanno vedere che tutte le forme di natura dai minerali ai vegetali i fiori gli alberi come dispongono i rami addirittura i petali delle coralle di un fiore rispondono a questa proporzione aurea la chiocciola sapete il nautilus no quella chiocciola fatta a spirale anche quella è costruita tutta quanto perché madre natura utilizza solo la proporzione aurea per fare costruire creare le sue forme e anche quando crescono gli alberi crescono in proporzione aurea noi il nostro corpo è fatto tutto in proporzione aurea e la stella a cinque punte per come è costruita ha in sé quella proporzione poi magari un giorno se volete ve lo spiegherò meglio no che è una questione di rapporti tra il lato della stella e il pentagono costruito dentro la stella a cinque punte ma adesso non voglio andare sul difficile dunque tutta la natura e quindi ma se le piante i minerali gli animali e l'essere umano sono costruiti i loro corpi in proporzione aurea ma possiamo pensare che magari anche i pianeti anche le stelle anche le galassie sono costruite secondo quella proporzione mamma mia che scoperta eh sì e quindi tutte le forme in proporzione aurea ad esempio il tempio il partenone di atene la facciata del tempio è in proporzione aurea e quindi quel rettangolo si chiama rettangolo aureo quando lo vediamo diciamo che è bello non sappiamo perché è bello ma siccome la proporzione aurea ce l'abbiamo dentro perché siamo costruiti in quel modo quando vediamo delle cose dei quadri dei paesaggi che magari sono o degli edifici che sono in proporzione aurea lo sentiamo dentro senza saperlo e quindi diciamo che bello comprendete ecco quando si conosce di più si sanno tante cosettine che ci possono venire utili poi anche no bene vedete anche il logo qua di anima ribelle quella fiaccola della libertà no la statua della libertà tagliata ebbene la proporzione del braccio esteso rispetto alla larghezza disegna un rettangolo aureo eh sì ed è per questo che quando la guardiamo diciamo che bella poi c'ha il tondo blu con anima ribelle in rosso scritto no quella fiaccola gialla il colore verde del manto della statua della libertà ci sono tutti i colori principali in questo logo e anche questo trasmette vedete dobbiamo imparare a leggere i simboli perché i simboli sono il linguaggio dell'anima e quindi l'anima ci parla sempre attraverso i simboli certo l'anima ci sussurra e quindi dobbiamo fare l'orecchio per ascoltare bene quello che l'anima ci dice ma il linguaggio dei simboli è il linguaggio più vibrante che esista quindi è per quello che ho sviluppato tutti i simboli dei valori allora lo so che io parlo di tante cose magari spero proprio ma insomma voi giovani siete anche veloci no di mente quindi riuscite a seguirmi spero proprio di sì allora ritorniamo alla volontà perché altrimenti qua non basta un'ora e allora il perfezionista è quello che troppo si crede ma poi c'è l'intransigente quello che dice o così o no ecco anche quello beh a volte va bene ma a volte bisogna essere anche un po più morbidi non un po più duttili quindi potrebbe diventare anche quello un degrado quindi un difetto che ci fa star male il superbo non ne parliamo poi no è quello che ha sempre al di sopra degli altri l'orgoglioso a quello che no perché mi offendo se mi dici così mi offendo subito perché il mio orgoglio va preservato il sospettoso mi sa che non ti credo è quello che pensa sempre che ci sia un complotto dietro o che le cose non siano così come si vedono che a volte è vero però essere sempre sospettosi non va nemmeno bene e anche quello ci fa soffrire l'impotente colui che se non ha la potenza il dominio sugli altri non sta bene la vittima il contrario no anche quello sapete la vittima a volte noi siamo vittime per necessità perché se facciamo la vittima gli altri magari hanno un po più di compassione per noi e allora magari a volte ci fingiamo vittime ma anche questo ci fa star male e poi lo spaventato certo perché spaventarsi lo spavento deriva dalla paura quindi la paura è un degrado della volontà perché chi ha la direzione va dritto per quella direzione non ha paura di niente comprendete magari vederli tutti e sette adesso è fin troppo no perché potremmo dedicare una puntata a ciascuno di questi colori no di questi archetipi ecco di questi valori però magari adesso vediamo appunto con questo della volontà o magari anche facciamo quello dell'amore vediamo un po e poi alla fine lo smarrito sì perché se io non so prendere una direzione giro in tondo oddio oppure sto fermo e dico oddio dove vado ecco smarrisco l'orientamento non so più dove andare quindi questi sono i degradi difetti complessi principali dell'abbassamento in frequenza dell'archetipo del valore della volontà avete compreso bene sentite facciamo così siccome manca un quarto d'ora e non voglio fare delle puntate di un'ora perché poi dopo insomma troppo stufa è già un'ora per i giovani e tanto seguire però se riesco a essere interessante credo proprio che qualche d'uno incomincerà a seguirmi poi le trasmissioni sono registrate quindi le potete sempre rivedere volevo o vi ho preparato anche un video che dura sette otto minuti e poi così arriviamo circa un'oretta poi dopo ci salutiamo ed è fatta quindi la prossima volta ritorneremo magari sul secondo valore quello dell'amore che anche lì ci sono dei degradi come tutti gli altri vedete anche quello dell'intelligenza e connessione che è verde e c'ha i suoi degradi vedete distratto distaccato ignorante quello dell'amore solo escluso invidioso rifiutato quindi vedete quando vi sentite isolati o soli è perché state vivendo il degrado quindi l'abbassamento in frequenza dell'archetipo dell'amore che esclude quando è vissuto in modo degradato e così abbiamo l'armonia vedete il conflitto l'insofferenza quando ci sente ardi oppure arroganti anche lì sono tutti disagi del degrado del valore di armonia e quello di conoscenza vedete l'inadeguato oppure l'inferiore la svalutazione la disistima dipendono proprio dal degrado di questo valore della conoscenza stella cinque punte e poi abbiamo quello della della ideale o perseguimento e vedete che ad esempio diciamo l'abbandono il tradimento mi sento abbandonato tradito ma anche l'offeso il crudele l'umiliato vedete come può variare possono variare questi nostri stati d'animo ma sempre hanno a che fare questi dieci principali con il degrado del valore di ideale e poi abbiamo l'ultimo valore quello di ordine il violetto anche lì lo sregolato ma anche l'instabile oppure il disordinato ma il ribelle il pignolo quello che si sente colpevole che i sensi di colpa ecco sono tutti i degradi del settimo valore di ordine e ritmo perché è quello anche che ci dà un giusto ritmo nella vita allora adesso credo proprio che possiamo vederci quel video che ho preparato e poi ci daremo i saluti finali ok allora lo faccio partire il contributo video valori è la risposta a questi tempi di cambiamento in cui i colpi di coda di un materialismo livellante la cultura delle masse fa strage del buon senso e dà valore alle forme piuttosto che i contenuti il degrado esistenziale imbarbarisce elementi mentre la deliberata enfasi emotiva e il turpiloquio che perversano sui social networks condizionano i più a seguire illusori stereotipi in una sorta di ipnosi collettiva il pericolo di un abbruttimento della popolazione specialmente di quella giovanile alle mere necessità di sopravvivenza dovuto alla crisi economica perdurante all'appiattimento dell'istruzione sulla base di un nozionismo avulso dall'etica e alla penuria di un lavoro che esalti i talenti individuali è incombente e preoccupante per cui occorre rifondare la base della civiltà e della pacifica convivenza ritrovando e riattivando nella propria interiorità i valori qualificanti l'esistenza il libro propone un'architettura qualitativa della vita con cui il lettore può confrontarsi e trovare le proprie corrispondenze per far emergere una visione soggettiva è dunque una sorta di guida ma al tempo stesso un diario personale in cui ad ogni valore corrisponde una scheda contenente il simbolo grafico la spiegazione del valore nella sua dimensione archetipica cioè al livello di perfezione originale e il pensiero seme da utilizzare affinché attraverso una contemplazione meditativa il lettore arrivi a connettersi alla propria essenza animica e quindi traduca quel contatto in un modello valoriale da emulare vi sono infatti nel libro degli spazi a lui riservati dove scrivere il proprio sentire e inserire un'immagine che raffiguri la sua visione rispetto a ciascuno dei 49 valori fondamentali valori e acquistabile presso tutte le librerie online eccoci qua ho dovuto riaprire il microfono perché altrimenti crea un eco anche con l'audio del video in sottofondo allora avete visto questo è un video che ho fatto proprio per il libro valori eccolo qua il libro valori che è un libro vedete ci sono dentro non solo i valori ecco guardate prima quello della volontà mi sono dimenticato che potevo farvi vedere proprio qua i valori e che avevo quello della eccola qua vedete la freccia rossa eccola qua non so mai ecco come metterlo bene a dritta l'immagine ecco la freccia rossa della volontà e poi ci sono vedete nel libro ci sono delle righe in cui potete scrivere proprio sul libro quindi diventa un libro corso questo in cui potete scrivere ad esempio che cos'è per voi la volontà e via dicendo e così andare avanti questo è il valore del proposito e questo è il valore della visione e ne parleremo poi più avanti e comprenderemo perché attraverso questo libro potete incominciare a sperimentare chi siete e quali sono i valori che sentite che vi mancano quindi vedete che ho messo appunto vari strumenti per poter arrivare a conoscere quali sono i vostri disagi e dunque poi vedremo è perché c'è tante cose abbiamo fatto anche le t-shirt le magliette da poter indossare perché indossando la t-shirt se voi vedete sulle pagine anima ribelle valori di facebook ma anche di instagram ogni giorno pubblico il valore del giorno e quindi la t-shirt con stampato il valore ed anche il suo mantra perché è importante il mantra sapete mantra cosa sono sono delle frasi che sono così forti così potenti da divenire dei comandi su di noi cioè sui nostri corpi abbiamo compreso adesso ormai lo sappiamo che abbiamo il corpo vitale o eterico che è quello che ci dà l'energia e la carica il corpo emotivo che è quello che ci dà ci fa sentire le emozioni e i sentimenti e il corpo mentale che è quello che ci serve per costruire i nostri pensieri e anche quindi per parlare ebbene i nostri corpi della personalità sono quelli che ci danno dei problemi mentale o emotivo o di carica energetica fisica sì ma se noi non siamo i nostri corpi siamo anche i nostri corpi ma i nostri corpi compreso quello fisico sono parti di noi ma allora noi chi siamo realmente ma questa è una bella domanda noi siamo la nostra essenza noi siamo l'anima infatti anche la parola stessa anima animare vuol dire dare vita un corpo inanimato è un corpo morto un corpo animato cioè che all'anima viva è un corpo vivo quindi come vedete noi siamo prima di tutto anime che abitano dentro i corpi e adesso avete imparato che non c'è solo un corpo fisico ma abbiamo il corpo della nostra mente il corpo delle nostre emozioni e sentimenti e il corpo vitale quello che ci dà la carica ogni volta bene abbiamo fatto 53 minuti di trasmissione non è poco abbiamo detto tante cose spero proprio la prossima volta di avere qualche uno in chat che mi fa una domanda ecco se posso esprimere un desiderio che diventi la mia aspirazione è quello di potervi vedere pian piano e non ho fretta numerosi su questo canale a seguire questa trasmissione perché abbiamo un sacco di cose da dirci da dirci perché voglio sentirvi attraverso la chat ma magari poi in futuro ci saranno anche modalità di potervi vedere in video ma per ora attraverso la chat e voglio sentire le vostre voci attraverso la chat voglio sentire che cosa pensate voglio potervi veramente aiutare perché ho dei metodi pratici molto efficaci per poter aiutarvi a elevare come quella freccia della volontà che mira verso l'alto elevare la vibrazione dei vostri disagi perché quando si eleva quella vibrazione di un comportamento che vi fa soffrire vi fa star male si scopre che è solo una frequenza più bassa di quel valore che è il valore archetipico cioè il principio di base che è perfetto come la volontà di elevarsi e dunque vi farà star bene quando eleverete la frequenza di quel degrado non sarà più un degrado perché sarà diventato non il disorientamento lo smarrimento ma la volontà di elevarvi perché quella volontà è sempre al di sopra di tutti quei degradi che in questa immagine avete visto che riguardano proprio la volontà il perfezionista l'intrasigente il superbole orgoglioso il sospettoso e poi ancora l'impotente la vittima lo spaventato il disorientato e lo smarrito sono tutti dei gradi dell'archetipo di volontà bene per oggi è proprio tutto 55 minuti vanno benissimo e allora vi do appuntamento ricordatevi le pagine su facebook ma anche su instagram anima ribelle valori e anche su tiktok anima ribelle valori c'è anche la pagina su tiktok in cui pubblico dei video brevi e in cui vi cerco di stimolarvi lo so che è difficile stimolarvi perché voi giovani siete molto difficili da catturare come attenzione ma una volta che si è riusciti a catturare la vostra attenzione e la vostra fiducia beh diventate dei paladini cioè diventate veramente dei grandi delle persone che possono sostenere tutto il peso di questa società che non è il massimo è ma voi voi giovani potete renderla migliore rendendo migliori voi stessi alla prossima dal vostro Edoardo di anima ribelle valori